Stiamo seminando la rinascita e questa la bufala di Rinaldo Melucci, ex sindaco di Taranto, parla di una riqualificazione della città, di una città che sarebbe solo a suo dire rinata, peccato che i cittadini non se ne siano accorti. E allora io cerco di scoprire questa rinascita, magari siamo stati disattenti, ma io sento e avverto l'esasperazione dei cittadini, la rabbia rispetto a queste prese per i fondelli continue. Mi sono candidato sindaco trasversalmente ai partiti, proprio perché dopo 21 anni di attività giornalistica sono anche io stanco di ripetere sempre le stesse cose. Le immagini di degrado urbano potrei archiviarle e usarle periodicamente, sono fotocopie su fotocopie, a dimostrazione che in questi anni nulla è cambiato. Ho deciso allora di giocare in prima persona, come ho sempre fatto, con il mio coraggio, con la mia determinazione, con 21 anni di battaglie. Per Taranto ho sempre lottato, non è solo il mio slogan, ma è la mia vita, la mia storia da giornalista. Ma al di là di questo andiamo proprio in medias res e ci troviamo in via Abruzzo, vedete la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato. Marciapiedi che non vengono rifatti, che sono non pericolosi ma pericolosissimi. Parliamo di una situazione che si è davvero incancrenita perché stiamo parlando, vedete, di tratti in cui i mattoni si sono rotti completamente, sono divelti e sono stati rappezzati con dell'asfalto, ma ovviamente il rimedio, come si suol dire, si è rivelato peggiore del male perché qui si creano dei rialzi e degli sprofondamenti, vedete, e qui si cade. Penso soprattutto agli anziani, penso a una mamma con il carrozzino, ma penso a chiunque, i cittadini di via Abruzzo. Parliamo di una zona centrale della città, non è che stiamo parlando di un'estrema periferia e fosse anche così le periferie hanno la stessa identica dignità delle zone del centro. Ma dico, è mai possibile che una città che vuol dirsi civile viva questa situazione di scempio? Io me lo domando e non è, vedete, solo questo tratto di via Abruzzo. Facciamo un passo, qualche passo in avanti e vediamo il medesimo quadro penoso. Abbiamo fatto qualche passo e vedete qui altri rappezzi, veramente dei pezzi di asfalto, di asfalto, dico bene, che sembrano quasi sollevarsi e poi tutti questi mattoni rotti, sembra quasi un mosaico, incredibile davvero. Beh, qui ci sono le responsabilità di Melucci, ma le responsabilità anche di tutta la sua corte. Penso anche a Musillo, Musillo ora si candida sindaco con il centrodestra, lui uomo di sinistra, segretario provinciale del PD. Bene, Musillo ha amministrato con Melucci per quattro anni e mezzo, il suo gruppo politico aveva i suoi rappresentanti in giunta e nelle società partecipate. Musillo politicamente è corresponsabile di Rinaldo Melucci, quindi non facesse tanto il verginello politico e il saputello, perché lui è autore del disastro Taranto insieme a Melucci. Questa è via Abruzzo. In questi anni ho guardato molto alla vivibilità urbana, creerò anche da sindaco un ufficio particolare del pronto intervento per andare a intervenire in quelle situazioni di urgenza, il marciapiede rotto, la buca, ovviamente non come in questo caso, perché qui va fatto il rifacimento totale ex novo. Però ci sono quei piccoli interventi che in un batter d'occhio, in un giorno o due, con una semplice segnalazione, si possono fare questi lavori e quindi avremo una squadra ad hoc che opererà nel campo della pubblica illuminazione, di strade e marciapiedi, buche, di rifiuti. Ecco, quegli interventi minimi, minimi, ma che servono tanto al cittadino. Al cittadino non si deve chiedere solo il voto o non si deve chiedere soltanto di pagare le tasse. Al cittadino bisogna dare servizi e quei servizi voglio dare da sindaco.